Buonasera a tutti, siamo Claudio e Stefano, siamo della Securement, al secondo anno di esperienza nel Giro d'Italia, Giro E in particolare, ottima esperienza, una bella esibizione sportiva per la nostra nazione. Per quanto riguarda il servizio è abbastanza impegnativo perché c'è un flusso non indifferente di ospiti in questo ospitali di De Giro E, quindi oltre ai team con i vari team manager, accompagnatori e corridori, tutto lo staff è completo, è un bel numero di ingressi da controllare, bisogna rispettare il protocollo Covid quindi con varie misurazioni, temperature, mascherine, bisogna stare dietro un po' a tutto, però tutto sommato fa parte del lavoro e ripeto, come ha detto il collega, bella esperienza, ottima esperienza. Ci vedremo l'anno prossimo come ci auguriamo tutti, un saluto e a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.